È una cosa che dovevamo alla città, è una cosa che l'Aquila merita, tornare nell'informazione regionale, informazione quella fatta dagli aquilani, quella che parla della città con cognizione di causa. È una cosa importante il progetto l'Aquila anch'esso perché comunque per la prima volta una struttura come la nostra, che è un archivio di decine di migliaia di ore di immagini anche prima del terremoto, dona le stesse alla collettibilità, le dona per una occasione importante per continuare quella raccolta fondi senza la quale crediamo che non si potrà neanche riniziare la ristrutturazione dell'Aquila. Luca Di Giacomo Antonio parla della nuova sede di Abruzzo24ore.tv che per Reteotto cura l'informazione dal capoluogo di regione. è inaugurata ieri all'Aquila la presenza delle massime autorità civili, militari e religiose e del progetto Aquila Where the Streets Have No Name, iniziativa No Profit che ha lo scopo di raccontare anche con numerosi filmati inediti la storia recente della città capoluogo d'Abruzzo. È una giornata importante per voi, per l'Aquila ma anche per noi perché voi siete i nostri referenti locali, noi ci appoggiamo sul vostro lavoro che avete fatto benissimo durante quest'annata molto particolare e speriamo adesso con la nuova sede, i nuovi mezzi a disposizione e le nuove forze in campo che avete messo in più per rafforzare la sede dell'Aquila di lavorare di più e meglio. Oggi Abruzzo 24 TV fa un passo in avanti, un anno di esperienza nella situazione di disagio e di dramma, ha saputo accumulare esperienza, ha saputo rimboccarsi le maniche e oggi con soddisfazione vedo che ha avuto modo di crescere.